A proposito di angosce, Ben è sparito da un bel po'. Credete che stia bene? Sarà benissimo, Gwen. Glitch è insieme a lui. Godiamoci il momento di silenzio e di tranquillità. Che ne dite se adesso ci provo io? È tutto inutile, Tetrax! Oh, usano i portali! Ma è fantasma! Oh, lasciami andare! No! Non rischierò di perdere la ricompensa! Ho l'impressione che tu non sappia che cosa fare! Nascondiamoci nella foresta! Ah, per ora siamo salvi. E comunque ho l'OmniTrix, posso tornarti utile. Avevi ragione, sei un tipo molto fastidioso. Bene, faremo meglio a muoverci prima che... Faremo meglio a muoverci prima che cosa? No! Lasciami andare! Ehi, grazie! Me lo rimangio! Tetrax, verrai sottomesso. Perché adesso non fate come il Glorgentrath? E la finite di scortecciare! Se tu non l'hai capita, il Glorgentrath è una pianta presente su alcuni pianeti simili al vostro... Se devi spiegarla, non fa più ridere. Sei utile solo per la ricompensa. Oh, ma andiamo! Guarda che non sono mica un oggetto! Va a sinistra! A sinistra! Tu corri! Io ti dico dove schivare! A destra! Sotta! Piroetta e capriola in avanti! Perdonami, ho esagerato. E vai! Ora ho due mani liberi! Oh, che rottura! Quale ricompensa mi daranno per te? Fate largo! Ops, sono stato io? Grande! Queste manette servono a tante cose! Fermo! Dov'è l'altro tizio? Ehi, maleducato! Stavamo parlando! Non mi interessa! Vediamo se ti interessano quattro pugni! Cavoli! Senti, a te manca un braccio, ma io ne ho quattro! Lascia che ti aiuti! Sì, finalmente sono... Libero! Stupida Omnitrix! Ce la prendiamo una piccola pausa? Scusa, ma ho da fare. Andiamo, orologio! Mi serve il tuo aiuto! Andiamo, andiamo, andiamo! La ricompensa è libera! Siete rimasti scioccati? No, la ricompensa è mia! Non oggi! E ora resta lì! Krab ritornerà! Ricorda le parole di Krab! Grazie per la visita! Speriamo di non rivederti mai più! Ho un debito con te, mutaforma! Per oggi ti lascio stare, ma la prossima volta che ci incontreremo, reclamerò la mia ricompensa! Potevi dirmi grazie! Ehi, fermo! Torna qui! Dov'è la mia vecchia Buggy? Per quanto sono stato via! Ok, ho finito! Ben, sei ritornato in tempo! Stavamo uscendo a prenderci una pausa! Vieni con noi! No, ho bisogno di una pausa dalla mia pausa! Ben! Non vale un bel niente! Mi piacerebbe! Mi piacerebbe!